ciao buona giornata mi piace il titolo parlare di pace o vivere la pace perché sono parole 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 sono certi che fanno manifestazione di pace poterono i sassi o altri che parlano solo di pace e poi a casa loro non sono in pace nella loro mente non sono in pace la meditazione l'alimentazione non violenta un certo stile di vita che io definisco spirituale puoi chiamarlo anche ecologico naturale spirituale quello è vivere la pace come può parlare di pace chi sul piatto mette pezzi di animali morti e qualcuno mi ha detto che ringrazia dio ci dice la preghiera davanti alla bistecca davanti al prosciutto ma non è una creatura di dio quella lì che hai messo nel piatto qualcuno mi ha detto ma non l'ho ammazzata io ma non si hanno fotografie di hitler che ammazza un ebreo però perché dicono che lui ha fatto fuori milioni di ebrei è perché dai comandi è il mandante così se non ci fossero quelli che mettono pezzi di animali morti sul piatto conditi poi con i vegetali perché da sola la carne non è appetibile allora parlare di pace vuol dire anche nelle vita di coppia tra genitori e figli tra colleghi tra compagni di scuola vivere la pace parlare di pace è bellissimo è bello ma ma bisogna vivere la pace e come si fa a vivere la pace noi siamo in italia discendenti da una cultura romana che diceva se vuoi la pace prepara la guerra se vi spaccio para bellum para prepara vuol dire prepara bellum vuol dire la guerra infatti industria delle ansie industria bellica dal latino bellum allora noi come possiamo continuare a dire che gli altri sbagliano e da quando io ho l'età della ragione cinque sei anni ho sempre letto già mi sono sempre documentato chi ha il governo governa chi ha l'opposizione dice che tutto quello che fa il governo è tutto sbagliato poi quando vanno loro a capo al potere allora dicono che quello che fanno è giusto cioè c'è questa idea di opporsi per il gusto di opporsi no spirito di parte no opporsi sempre qualunque cosa fa anche se fa una cosa giusta no no sbagliato sbagliato no la pace è vivere 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 in pace la pace è vivere in pace non è solo parlare di pace parlare di pace ripeto è bellissimo ma come mai le canzoni più famose raramente parlano di pace raramente i temi sono l'amore il sesso la coppia rapporti no sono quelli i temi sembra che la pace non sia un buon affare sembra sembra che la pace non sia eccitante sembra che chi vive in pace non gode non c'è passione ci vuole grinta ci vuole una forza aggressivo dinamico grinta bisogna essere orgogliosi qualcuno dice ah bisogna essere orgogliosi di essere gay ma stai ma perché orgoglioso perché sovrastare gli altri noi non possiamo essere uniti nella diversità possiamo essere rispettosi nella diversità non uniti perché l'unione non serve l'armonia non è unione attenzione l'armonia non è unione basta vedere il cammino dell'acqua l'acqua che cosa fa dagli oceani l'acqua evapora diventa nuvole quelle nuvole è acqua poi quell'acqua che cosa fa cade se cade a una certa altezza si congela è come se le montagne fossero dei frigoriferi che ci tengono l'acqua da parte poi con la stagione si scioglie scende a valle e viene usata per irrigare cioè se non ci fosse l'acqua che fa il ciclo moriremo tutti perché non ci sarebbe vegetazione e anche quelli che mangiano gli animali gli animali come vengono nutriti? con i vegetali con quello che cresce dalla terra quindi noi dobbiamo far girare le energie positivamente dobbiamo vivere la pace a tavola in camera da letto in camera da pranzo in cucina a scuola su luoghi di lavoro vivere la pace non uniti contro quelli là no bisogna trovare il punto d'incontro l'armonia il rispetto non è io sono orgoglioso come gli imprenditori continuano a dire ah io rischio sì ma tu rischi se va male va male ma se va bene guadagni molto di più di quelli che ti hanno fatto diventare ricco c'è come l'idea di essere un po' Dio io ti do il posto di lavoro tu mi devi ringraziare perché io ti do il posto di lavoro sì però io ti do la ricchezza perché ti do il tempo l'energia dedico otto ore al giorno alla tua ricchezza e al mio mantenimento attenzione il mio mantenimento e la tua ricchezza quindi la pace vivere la pace vuol dire anche ridistribuire le ricchezza ridistribuire le ricchezza fare in modo che non l'economia gira la ricchezza gira tutti devono avere accesso all'acqua potabile all'istruzione a un alloggio a un cibo biologico naturale possibile 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 allora adesso mettiti a meditare con un programma io voglio vivere la pace io voglio parlare di come io vivo la pace tra tutti i tipi di pace ce n'è una che è fondamentale la pace mentale per questo che io dico riprova ripetere con me auguro a tutte le persone che ho incontrato in questa vita pace mentale ottima salute buona fortuna tanta felicità se non c'è la pace mentale non c'è la buona salute perché anche chi ha un corpo che è o dalla nascita o per incidenti è un corpo danneggiato se è in pace mentale lo vive meglio di chi è nervoso agitato di chi è sempre soffre di altri e bassi quindi la pace mentale è capire che noi non siamo questo corpo viviamo nel corpo ma non siamo il corpo in sanscrito che è la lingua più antica del mondo si chiama sanatana dharma sanatana vuol dire eterna dharma spiritualità chi capisce la sua eterna spiritualità capisce anche la temporaneità del corpo questo maglione durerà un certo numero di anni ma non dura cento anni sarebbe una rarità il corpo può durare cento anni e poi finisce quindi il maglione finisce la camicia finisce ma tu continui quindi tu c'eri ci sei ci sarai trovi queste informazioni nei libri che io ho scritto se li vuoi ti ricordo che il ricavato dei libri il prezzo dell'indirizzo si basa su amore sempre ovunque siccome io mi considero fortunato e considero anche a te fortunata la vendita di questi libri che io compro dalla casa editrice io collaboro con le case editrici e dico pagatemi i libri poi io li do e qualcuno fa beneficenza a dei programmi umanitari in india e in africa specificatamente aiutiamo delle brosi aiutiamo delle bambine orfane costruiamo dei pozzi d'acqua in africa se ognuno fa quello che può noi possiamo vivere la pace e creare territori di pace stili di vita di pace e stare ogni giorno meglio il merito se ci riesci è tuo a Grazie a tutti.